salve sto leggendo un bellissimo libro è il giorno della cipetta di leonardo sciascia se avete voglia di seguirmi in questo percorso ve ne parlerò un po e vi farò un riassunto molto dettagliato salve sono devo piccioni il signore del bosco ci troviamo in sicilia un paese come tanti un paese apparentemente tranquillo ma all'interno di essa si cela un male questa è la situazione che si farà davanti al capitano bellodi il nostro eroe ce la faranno i nostri eroi a sconfiggere la mafia siciliana il giorno della civetta